e ciao tutti amici siamo i the killer boy sono cristian e oggi farò un video di un gioco che cioè vector che è un pratica un gioco di parkour non vediamoci in chiacchier e cominciamo subito con il video allora giochiamo significa non ce l'ho neanche cominciato primo livello questo ok questo è qui ragazzi vi faccio vi auguro una buona immacolata vi auguro cioè in pratica questo gioco è di correre da uno da scappare sembra di che questo quasi mette davanti a te ti ammazza wow saltiamo da omelie annunzacci di sky vai vai no no cavolo perché vabbè scoraggiamoci almeno lo dovremmo ci dovremmo riuscire speriamo perché questo gioco l'avevo disinstallato però ho pensato di fare un video su questo su questo gioco saltiamo ok ragazzi continuiamo ho avuto cose di famiglia ovviamente sono qua in campagna in famiglia stiamo festeggiando l'immagolata come ovviamente fate voi ogni volta che c'è una festa ovviamente ragazzi qui sotto nei commenti scriveteci cosa fare nei prossimi video non è che perché non abbiamo tanta ispirazione capito cioè vi invito sempre a scrivere nei commenti cosa fare nei prossimi video vai andiamo veloce vai c'è la mostra speciale come per me sto gioco è carino molto carino però ci saranno dei livelli ancora molto difficili vabbè due stelle va bene continuiamo facciamo il prossimo livello che caldo volevo fare volevo sbloccare anche quella mossa però no ho 40 soldi giustissimo cominciamo a scavolcare delle belle montagne i piccioni che ci rincorrono non ho capito manco che cosa servono quei cubi cosa non mostro le mosse che fanno no che cosa cosa soldi sceo ha sbattuto nel muro ha fatto come lì i danzacci di sky vai riproviamoci che scusate che non c'è il massimo del silenzio però ho trovato il silenzio guarda un giunato stava ti stava sderubbando peccato peccato ragazzi se volete io e orazio potremmo fare anche un video su gta per la 3 però me lo dovete ce lo dovete scrivere perché non è che possiamo fare guarda come non detto abbiamo scoperto degli lts che potrebbero piacere a voi vabbè ragazzi scrivetelo nei commenti poi qualche gameplay su gta lo faremo sicuro vabbè dai concentriamoci vada 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 le sgabelle stavo stavo ammazzando dai vola volare vai salta salta no sono morto visto visto fa come un uccello si va a prendere che cavolo sti cavolo mi interessa di quel cubo ma tende che comprate il livello mi interessa caricarvi il video perché non voglio lasciarvi senza video manca a passare manca a passare ma che fai salame fa un salame visto visto ragazzi faccio schifo sto gioco vai 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 scusate ragazzi perché sono così perché non sta tanto bene ho un pochino di tosse però il video ve lo porto lo stesso guarda sempre lì vada a gabbare dai stavo no salame ok ragazzi ho avuto un problema ho avuto un problema che sono caduto mi hanno preso e sono caduto come un sacco di patate c'è anche mio cugino che si mette a ridere dai 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 che non prendiamo gli sgabelli vai 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 bravo bravo amico mio sei un mio amico lo sai bravo bravo picciolino bravo picciotto bravo picciotto boom abbiamo finito il livello ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi metto sempre a spolliciare condividete commentare scrivete sotto nei commenti se volete fare un gameplay su gta online oppure nella storia vabbè ragazzi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi